Ciao a tutti ragazzi! Io e Piccettino sotto questa calura estrema vi portiamo a parlare del 39esimo speciale di Tex, il tanto amato Texone. Texone che mamma mia, molto più che speciale oltre alla dimensione e oltre alla testata. Tanta tanta roba, 22 giugno 2023 la data di uscito, 240 pagine in enorme formato, altrimenti non sarebbe un Texone. Redazionali da una parte, storia dall'altra, 9,90€ il prezzo di copertina. Sì, esattamente quello che ha sempre avuto in tempo recente, quindi nessun aumento per il Texone. Questa è una notizia di contorno ma molto interessante. La seconda interessante è che non è stato messo il bollone dei 75 anni. Vi ringrazio Casabonelli, non mettete più bolloni che vi vengono male, soprattutto grazie di non averlo messo sul Texone. Texone che, come sapete, oltre a essere lo speciale di Tex, quindi dimensioni e pagine diverse dal solito, ha anche la particolarità di avere o un disegnatore rodato che viene valorizzato al mille per mille qui sopra, come successe per Galep e tanti altri, Villa, eccetera, eccetera. Oppure disegnatori che si prestano per la prima, a volte, unica volta, con la loro arte nel mondo di Tex, come è successo a Magnus, come è successo a Kubert e come è successo anche a Corrado Roy. Quindi, insomma, il Texone è speciale già di suo. Ragazzi, qui abbiamo Maurizio Dotti. Maurizio Dotti è il copertinista della saga parallela di Tex, ovvero il Tex Wheeler, la versione giovane di Tex. E infatti ci buttiamo a capofitto in quella versione, anche se in realtà ci saranno Tex e Carson, l'attuale, quelli canonici. E come funziona? Beh, lo scoprirete tra non molto. Intanto partiamo così, la copertina. Carson giovane, Tex giovane, Demdick e poi la Warner, la nostra Pinkerton Lady. Che vi devo dire di più? Per l'onore del Texas. Una copertina che rispecchia perfettamente lo stile Texone, quindi il grande bianco e il disegno, fatti nello stile di Maurizio Dotti e sono, mamma mia, impressionanti. Bello non rende l'idea. Io posso dirvi soltanto che sono entusiasta di quello che sto vedendo qui. Nordisti, sudisti, c'è tutto quello che serve in questa copertina. Forse anche di più. I miei complimenti a Maurizio Dotti. Io più di così non so cosa dirgli, ma d'altronde non devo essere io a dire quanto è bravo. Lo vediamo tutti i mesi su Tex Wheeler. Abbiamo poi, bellissimo, abbiamo un Graziano Frediani che ci porta a fare una bella introduzione, che è proprio l'introduzione più base, che è un richiamo irresistibile. Poi Gianmaria Contro si occupa di intervistare il buon Maurizio Dotti ed è sempre molto interessante vedere dalla viva voce dell'interessato come è, come non è, conoscerlo meglio prima di iniziare. E Luca Barbieri invece fa un lungo, una lunga disamina sul massacro del Nueces River che sarà un po' il motore di questi emigrati tedeschi in America, il nord, il sud. Insomma ci fa una bella introduzione storica, perché qui di storia ce n'è tanta, ma davvero tanta. Ragazzi, partiamo dai disegni. Io sulla prima tavola avevo già i brividi alti un metro. Cioè ragazzi, la prima tavola, pagina 17, è da brividi. Io non sono mai stato un compratore di tavole originali, ve lo posso garantire. Ne ho qualcuna, ma proprio di, non di poco conto, ma diciamo di, non sono a livelli di tanti altri. Ciao Marco, a proposito. Ma questa è una di quelle tavole che davvero farla campeggiare nel mio salotto non mi dispiacerebbe. Davvero, ve lo dico così. Pagina 17, la prima tavola di apertura, per me è già da pelle d'oca. E si va solo a salire. Dotti è bravissimo, Dotti è bravissimo a gestire la nostra Pinkerton Lady nei vari travestimenti, nei vari apparizioni, a gestire presente e passato, anche se il presente è una chiacchierata che si fa. È il solito Kit che chiede, dopo una celebrazione in memoria degli uomini che morirono per difendere l'onore e la libertà del Texas, qui dove c'è questa statua, Kit vuole sapere come lo zio Carson e padre Texas sono stati coinvolti. E qui parte, dopo una lauta magnata ovviamente, perché ci sta tutta in questo caso, il racconto, il racconto di quello che poi è il cuore. Nord, Sud, la missione parallela ma opposta che hanno Kit e Tex, già la seconda volta che li vediamo muoversi in maniera leggermente diversa. Insomma ragazzi, davvero, tanta roba. I disegni mostrano tutto questo. Riescono a mostrarci un Carson sugli scudi per lui. C'è da chiarire il rapporto con la Pinkerton Lady, ragazzi, con Carson, perché è molto interessante. Da chiarire. Ci buttano l'aggancio per una futuro speciale di Tex Wheeler con Carson protagonista. Ci buttano l'aggancio qui. Insomma ragazzi, davvero, tanta roba. Io posso dirvi che a livello grafico, wow. Cioè, Carson giovane fa sempre un po' effetto, però ragazzi, quando Carson è tuo personaggio preferito e lo vedi così in spolvero, così attivo, così giovane in grado di fare, è incredibile. Davvero ragazzi, io posso dirvi che è qualcosa di incredibile. Ci sono delle tavole, mamma mia, le vedete scorrere. Cioè, Maurizio Dotti ha fatto un lavoro che, mamma mia, complimenti. Vi dico soltanto guardate le tavole che scorrono e ancora non avrete chiaro quale lavoro è stato fatto qui dentro. Punto. Non dico altro. Ma il grande e più pesante lavoro per le nostre neuroni lo fa Mauro Buselli. Mauro Buselli che imbastisce una trama mista a realtà storica, mi sta a riordinare anche la storyline di Tex. C'è un momento in cui Tex non è Texas Ranger, non è ancora quella della notte, insomma, che poi si riarruolerà dopo. E siamo in quel frangente, quindi qui Carson conosce già Tex. Tex non è più un fuori legge qua. Era andato a fare il vaccaro, ok? Ma qui torna, torna per vari motivi, viene chiamato dalla Warren in persona, da Lincoln in persona, che ora è presidente, non è più un aspirante presidente. Insomma, ragazzi, c'è davvero una realtà storica che si mischia bene con quanto è stato raccontato fino adesso nel Tex Wheeler e anche con quello che abbiamo visto nel Tex canonico, per certi versi. Quindi davvero, ragazzi, scusate, un plauso al nostro Buselli, che ha fatto un lavoro di taglia, cuci e imbastisci storia incredibile. Dall'altro, Carson. Carson che si muove da solo. Noi siamo abituati a vedere un Carson che si muove sempre con Tex qui e da solo, pur percorrendo lo stesso sentiero, anche se in direzione diametralmente opposta, perché lui si muoverà per fare un favore, e mentre Tex, ma questo ve lo dico dopo però, si hanno diametralmente opposti. Ed è molto interessante come cose due già si conoscono, si rispettano, non sono ancora quei fratelli che abbiamo visto, quei parts da cuore in mano uno per l'altro, ma sicuramente tra i due c'è grande rispetto. E quello che posso dirvi è che si vede tutto. Si vede tutto in queste tavole. Demdick, che lo vediamo muoversi a fianco di Tex, che fa un po' il Carson, per certi versi, quindi è un po' una fotocopia del passato di Tex on Carson, anche se è meno brontolone. E qua abbiamo il nord e sud contrapposti. Nord e sud dove si enfatizza tanto la malvagità di questa truppa di impiccatori, però fondamentalmente si parla proprio della guerra civile, lì contro Grand fondamentalmente, al sud, Grand, al nord, la guerra civile. E dove tutto sommato non c'è realmente un buono e un cattivo. Cioè c'è il cattivo che è quel gruppo di rinnegati folli, ma perché vengono enfatizzati, se ci pensate leggendo. Perché poi in realtà ognuno ha la sua dose. E infatti, qui mi riallaccio, Tex si muoverà più davvero ribelle, davvero super partes. Lui non ti fa per il nord, non ti fa per il sud, manco del Texas fondamentalmente. Lo fa per salvare delle persone, lo fa però per non uccidere nessuno dei suoi compatrioti texani. Cioè Tex ha questa mentalità. Carson invece è comunque fedele allo stato del Texas, quindi lui non appoggia la guerra, ma è più ligio al suo dovere. Cioè è più Texas Ranger vero. Quindi hanno due approcci diversi. E si vede anche nello scorrere delle tavole, nello scorrere della storia. Storia che ci incasina di brutto. Tanti personaggi, tanti colpevoli, alcuni esageratamente potenti come colpevoli, quindi non gli puoi voler bene, sono certe tavole in cui ci mandano, morite tutti maledetti. Altri invece dove c'è il filo conduttore appena appena. E soprattutto c'è una sconfitta, se vogliamo essere onesti per Tex. Non vi entrerò nei dettagli, perché questa è un'epopea che va a letta. Magari poi vi può interessare capire la storia reale. Oltre questo io ho dato un'occhiata su Wikipedia e tutto subito dopo, perché ragazzi c'è tutta una storia vera, quella che si studia sui libri di scuola, per gli americani, non nostri. E Mauro Boselli mischia tutto, Calderone e via. Questa non è una storiella che potete mettervi a leggere così, giusto per passare il tempo, perché dite, ah vabbè dai, tanto è un western così, no, non lo è. Questa ragazzi è una vera e propria epopea, questo è un film da hollywoodiano, come non se ne fanno più, con una marea di personaggi, forse si pecca, ma con Boselli è normale, di un pochino, non troppa verbosità, ma troppa pomposità in alcuni dialoghi, in cui si enfatizza un po' l'ovvio in alcuni momenti, però ci sta, è lo stile di Boselli. Io vi dico che a leggerlo una volta sola non vi basta, perché vi perdete nella mole di avvenimenti, di intrecci, con il gioco ancora di mettere Tex e Carson su due piste parallele che poi si incrociano, ma in realtà hanno fini leggermente diversi, ragazzi è tanta roba, io posso dirvi che il Texone così è incredibile. C'è da capirlo bene, c'è da entrare bene, c'è da non perdersi, soprattutto nella seconda metà dell'albo, con i movimenti, con chi si sposta dove, con quale gruppo fa cosa e con chi combatte con chi, perché poi dopo si cominciano a formare i gruppetti. Posso dirvi che c'è una giustizia divina in fondo, perché ragazzi c'è un pezzo finale incredibile dove il cattivo base riceve la giusta punizione, però tanta roba ragazzi, davvero tanta roba, io potrei stare qua ore e ore a parlarvi, ma credo, credo che la cosa però migliore di questo Texone sia la chiusa di Kit Wheeler, dove, come funziona, dove Kit dice una cosa molto bella ragazzi, Tex e Carson parlano no, di quelli che scamparono al piombo, quelli che tornarono liberi, erano di difesa loro, di difesa del Texas, eccetera, eccetera. E Tex dice detesto la guerra è solo un grande inganno e tira fuori la parte peggiore degli esseri umani. Ecco, la chiusa di Kit è meravigliosa. Non di tutti, Pa, io dal vostro racconto un'idea chiara me la son fatta. Anche in una guerra ci può essere una parte giusta e una parte sbagliata. Non ho dubbi su quale fosse la parte giusta, lo sapevate anche voi. E lo sapevano gli uomini che, quando il loro paese ha scelto la parte sbagliata, hanno cercato a prezzo della loro vita di riscattarne l'onore. Questa stele ricorda alcuni di loro. Ora che ho sentito la loro storia mi sembra di conoscere di meglio e di capire per che cosa sono morti. questa chiusa di Keith Wheeler è un po' il senso di tutta la storia che c'è dietro. Ho voluto farvi questo spoiler leggendo proprio le parole di Keith perché chiudono un qualcosa, chiudono quella che è stato un racconto di maturazione, di prese di consapevolezza. Il fatto che Keith chiude in questo modo significa che pur nell'orrore di tutto quello che è stata quella guerra qualcosa da imparare, qualcosa che insegna qualche valore rimasto e anche una persona che ha solo sentito raccontare ha capito e interiorizzato la cosa. È veramente una bellissima chiusa che fa il paio con un inizio clamoroso. Beh ragazzi gli ho tediato anche troppo perché davvero andate e recuperate questo texone. Tutti noi immagino abbiamo delle preferenze sui texoni. Io non ho mai nascosto che per me ad oggi il più bel texone è stato Patagonia ma molti hanno questa idea. Bene questo per l'onore del Texas gli si piazza lì eh ragazzi gli si piazza lì perché è una storia che colpisce. Vi intrattiene con l'azione con i personaggi con le sparatorie con il West così come lo conosciamo ma alza la sticella anche dopo per tutto quello che è il contorno la caratterizzazione storica con la S maiuscola e della storia di ciascun personaggio che vedete tex e Carson non hanno ancora il rapporto che conosciamo ma cominciamo a vedere i frutti cominciamo a vedere i semini di quel rapporto tutto il resto è storia con la S maiuscola io vi dico andate e combattete anche voi per l'onore del Texas alla fine alla fine di questa lettura queste letture che una secondo me non vi basterà dovrete farne almeno due o tre sarete arricchiti storicamente e capirete senza bisogno di aggiunte perché tex è in edicola da 75 anni e perché edicole permettendo resterà in edicola per altri 75 anni come minimo ragazzi un grande nuovo classico pronto per tutti voi in tutte le edicole mi raccomando andate e leggetene tutti